Come ci si sente a sapere che tutti quelli che rappresenti sono colpevoli? Bene, per l'innocente costo troppo. Un avvocato di successo. La scientifica ha trovato del sangue sull'auto di tuo padre. Ti riconosco! Dovrà affrontare... Sono il suo avvocato. Il giudice più severo. Inchiuderò il suo cliente a un omicidio di primo grado. Ho detto tutto quello che so! Robert Duval. Quello che mi serviva eri tu! Robert Downey Jr. Senza imbrulli. Per il ciclo Visioni d'Autore. The Judge. Mercoledì alle 21. Con Iris.